Elisa che vite vite aspetta che ti fa vedere guanti da chirurgo si comincia ore una mezza di notte circa ok si comincia qui bisogna adesso smontare il tutto ovvero basta che con calma togliere le parti e si comincia non mi insegno come fare a pulire bene una piastra da gas come questa praticamente piano piano lasciare un po d'acqua che agisca poi piano piano sì adesso ci vorrebbe la crema apposta il c forse per la bandini non mi ricordo comunque basta abbondante vediamo vediamo la camera se riesce a filmare qualcuno a sinistra piano piano sai piano piano poi qui bisogna anche togliere le parti no smontare dentro col fan solino posta con stecchetto sto metto apposta ok comunque ho pulito da poco quindi sono molto a posto l'impianto è apposta molto bene ora proseguiamo perché qui ho messo su un frico quindi dovrò si fare tutto veloce adesso sto ristorando la cucina piano piano sempre con calma lavandino devo lucidarlo devo togliere le tubazioni devo anche lì passare un spazzolino giù perché qui lì dentro è sporco mi sarà sicuro e casato ok si va avanti con il bando d'opera e così questa è la vita della notte ciao elisa bacini